Allora stiamo parlando appunto di questi beni che sono aumentati e anche voi come associazione consumatori non siete così soddisfatti, ma voi potete fare qualcosa, noi riceviamo continuamente comunicati, osservazioni eccetera, ma avete qualche peso specifico, dopo andiamo a parlare dell'energia, leggo anche il messaggio, quello che avete detto è molto interessante, ma adesso cosa dobbiamo fare noi poveri cittadini che non contiamo nulla ma solo da spremere come limoni, cosa può fare il cittadino e voi associazioni consumatori cosa potete fare? Allora dividiamo le due cose perché è molto importante cosa fa il cittadino, cosa devono fare le associazioni, allora già per i nostri telespettatori, quelli che ci stanno ascoltando adesso dopo un'anteprima quest'anno ci siamo ancora di più coalizzati le cinque associazioni dei consumatori riconosciute Regione Veneto per una progettazione che si estenda di più sul territorio di informazione perché per poter dare a una maggior quantità di persone assistenza diretta, quindi parlo di sportelli, nuovi eccetera, ma quello che è più importante ci stiamo focalizzando sulle attività che dovremmo svolgere sul web e nei network locali anche a livello translocale, per cui abbiamo già con la Regione Veneto abbiamo già stabilito quali saranno le nostre priorità, abbiamo individuato tre focus che saranno l'energia, che saranno l'educazione finanziaria perché adesso le banche stanno lavorando alla grande, sto pensando ai super bonus, sto pensando a cessione di credito, sto pensando al rinnovo dei contratti di mutuo perché chiaramente lo spread sta salendo e le famiglie cominciano a sentire il fiato sul collo, quindi il focus sono queste tre, energia, poi ci saranno gli alimentari, poi ci saranno il credito e le assicurazioni, ma la novità di quest'anno sarà con i miei colleghi regionali, abbiamo già fatto due o tre incontri particolarmente intensi dove abbiamo cercato di dire bene, facciamo un solo progetto unico, quindi sarà un progetto unico regionale della Regione Veneto, dove ci saranno cinque protagonisti, dove ognuno a seconda chiaramente delle sue peculiarità come associazione, chi ha più sedi, chi ha più network, chi ha più web, eccetera, daranno lo strumento ai famosi cittadini come il signore che ci ha mandato l'SMS prima, i famosi spremuti come limoni, vogliamo dare anche una formazione per quello che potrebbe essere l'orientamento ad un acquisto consapevole, al consumo consapevole, anche in tema di energia, perché l'ultima volta ho preso anche un bel po' di critiche, poi dopo quella trasmissione mi hanno telefonato, perché io dissi, beh, dobbiamo diventare protagonisti del nostro futuro, del nostro destino, orientando le nostre scelte, se orientiamo le nostre scelte, il mercato che funziona tra domanda e offerta, poi dopo comincia anche ad adeguarsi, ma tu dici, ma se uno pensa che uno vale uno, che per me questa è la cosa più fuori del mondo, ma comunque lasciamo perdere, se no faccio politica, ognuno di noi ha un dovere civico e morale con i suoi comportamenti di poter aiutare anche la comunità a fare delle scelte consapevoli. Adesso, quest'anno, promuoveremo anche il consumo consapevole nell'energia, creando i gruppi di consumo, valorizzando anche tutte quelle forme cooperative per poter strappare sul prezzo almeno dell'energia qualche soldino ai venditori, perché ce ne sono centinaia di venditori e non capisco perché l'ARERA, l'autorità per l'energia e il governo non si attivano nei confronti di queste società che nascono e muoiono nell'arco di due anni, perché falliscono. Allora, per poter essere un venditore serio, qualificato, che vende il gas e la luce, non puoi mettere a repentaglio le tasche del consumatore finale che ti ha dato fiducia, perché ci sono due o tre aziende fallite di energia, che sono andate a finire in un mercato che si chiama mercato di salvaguardia, che è un mercato che è molto più costoso a livello di kilowattora o a livello di metri cubi di gas, di super metro cubo, di standard metro cubo, e pagano di più addirittura la luce, il costo e la materia prima. Perché? Perché è fallita quella società, allora un'altra società più grossa si compra il debito di quella là e poi dopo io consumatore, molte volte senza neanche saperlo, mi trovo da pinco pallo, mi trovo dopo due mesi che sono cliente di quell'altro che non mi ha neanche avvisato e pago di più la luce e il gas. Capita così? Uno può cambiare anche le tariffe e tutto quando c'è questo cambiamento? è possibile contrattualmente? Mi scuso perché stavo leggendo questo che mi ha subito intercettato. Dobbiamo vivere dei nostri prodotti e cercare di non dipendere dall'estero, pazienza se non abbiamo il caviale, a chi interessa lo compra dal web. Rispondo? Vabbè finisco il discorso e poi rispondiamo al telespettatore. Quindi la domanda tua era praticamente, mi dici ma scusami. Esatto, se c'è un rapporto contrattuale con un'azienda, questa azienda per carità finisce male, però io avevo firmato un contratto che dovrebbe subentrare in un contratto. Sì, ma molte volte da me vengono arrabbiati e dicono non mi hanno neanche avvisato, mi sono trovato alla fattura di quell'altro gestore e dico ma che sia sto qua? Non lo conosco. Ecco, questo è un caso in cui anche le autorità per l'energia e il governo e anche il Parlamento incomincia a legiferare e metta dei paletti più stretti perché ci siano meno venditori ma che siano più qualificati che non ci facciano fare la fine poi dopo del gatto intagenziale perché ti passa la macchina addosso e non sai perché ti è passata sopra. Allora, stesso discorso per il discorso del nostro amico consumatore. Malizioso il caviale, però dietro al caviale c'è anche un messaggio secondo me sotteso in questa osservazione. I nostri prodotti stamattina mentre andavo a un congresso del nostro sindacato facevo ragionamento se mi chiedesse, l'intervistatrice mi chiede appunto cosa ne pensano i consumatori del discorso autoproduciamoci, cioè produciamo per il nostro sostentamento. Caro consumatore, allora negli ultimi 60 anni, parlo dagli anni 60, noi avevamo la pianura padana, io studiamo in geografia, io sono nato nel 58 quindi nel 63-64, studiavamo in geografia le regioni e le zone d'Italia e mi ricordo vagamente, se non ricordo male se non ho preso l'arterosclerosi conclamata, che la pianura padana produceva per quasi mezza Italia sotto il profilo latte caseario, eravamo autonomi, anzi vendevamo all'estero. e la mia Puglia, purtroppo te lo devo dire, sono pugliese, il tavoliere delle Puglie era il granaio d'Italia, bene, il tavoliere delle Puglie adesso se tu passi con la macchina ti vedi una distesa di roba secca bruciata, ci sono pochissimi campi di grano, la coltivazione dei pomodori, i famosi San Marzano, ce ne sono ancora, ci sono le paleoliche, no? e nessuno vuole più lavorare, nessuno vuole lavorare i campi, nessuno vuole essere imprenditore, perché? per due cose, e questo lo dico, dopo mi critichano, facciano quello che voglio, tanto dopo a livello nazionale, quando mi chiamerà il Presidente nazionale, dirà sei il solito, ma politiche in questi ultimi 40 anni per avere un'autonomia anche a livello, non dico solo alimentare, ma anche energetica, l'abbiamo fatta? no, adesso piangiamo il morto, cioè a bambomorto veniamo a piangere, che andiamo a pescare dal Congo, ho sentito, dall'Angola, questi sono scannati fino a dieci anni fa, il Congo e l'Angola, spero che non facciano un'altra guerra civile, perché se no questi staccano i tubi in Africa, te li tolgono, quando è morto, quando hanno ammazzato Gheddafi, la Libia, ci ha dato un terzo dell'energia che ci forniva, l'Eni ha dovuto lasciare sul campo tante raffinerie di gas e petrolio, le ha dovute lasciare sul campo, per cui voglio dire al consumatore che ha fatto questa osservazione, che noi abbiamo preferito in questi 40 anni diventare trasformatori della materia prima, in cui siamo eccellenti, per carità siamo i primi nel mondo, il made in Italy, eccetera, ma non abbiamo una materia prima che sia una, ma nel campo alimentare, nel campo energetico, nel campo bancario, dove i grandi gruppi, i grandi poli, penso alla Germania, penso ad altre nazioni più visti, hanno creato delle situazioni di solidità, noi abbiamo avuto negli ultimi 5 anni, abbiamo avuto per esempio 3 fallimenti di banche, 120 mila risparmiatori sull'astrico, ma chi era che doveva controllare? La Banca d'Italia? la Banca d'Italia ha controllato? Non si sa niente, stiamo parlando dei grandi gruppi che sono in emergenza? Del sistema bancario non se ne parla, si cercano sempre di mettere le toppe, i rappezzamenti, facciamo così, lo Stato interviene, la compagnia di bandiera? Finita la compagnia di bandiera? Avevano talmente tanti... Cioè, questo per far capire, comunque al consumatore penso di averti dato una risposta. L'altra domanda che c'era, come si può fare per fruire dei vostri servizi? Vediamo il messaggio se lo possiamo rimettere in onda così spiega anche... Se me lo rimetti in onda perché non ho... Sì, sì, eccolo qua. Non ho ferrato. Ma per utilizzare i vostri servizi cosa bisogna fare? Allora, per utilizzare i nostri servizi bisogna solamente innanzitutto informarsi perché noi siamo sparsi su tutto il territorio, che sia la mia associazione, l'associazione Adoc o la di consumo, la Feder Consumatori o la Lega, basta andare su internet e scrivere associazioni consumatori in Regione Veneto, te ne vengono fuori 5, ci clicchi sopra, ci sono tutto quello che cercate, indirizzi delle sedi, abbiamo anche il know-how sul web per quanto riguarda quelli che sono i consigli diretti, li chiamiamo noi, contattami, no? Tu metti nome e cognome alla provincia, no? E noi ti ricontattiamo entro 24 ore, questo è un servizio che abbiamo creato già l'anno scorso, si ringrazio ma mi capita sempre, interessante, traduzioni così dove potesse dire più. Dovrebbero essersene di più, grazie. No, ma Elena è già brava perché mi chiamo ogni tanto quando sente proprio che l'aria che tira è bruttina e in questo momento tira così male. Ecco, ritornando al discorso di prima, quindi va bene, quindi entrare nel sito, si potete intercettare sui siti, comunque in ogni caso c'è una piccola quota di iscrizione che adesso io quantifico per lato che veneto in un certo coso, però e poi dopo ci sono quasi tutti i servizi sono gratuiti o quasi, perché sono gratuiti. Perfetto, ritornando al discorso che ho fatto prima, proprio per capire, per dare anche delle risposte ai tre spettatori, a livello nazionale, perché poi a livello territoriale voi avete come referente la regione, però qua sono cose che non necessariamente riguardano la regione, non coinvolgono la regione, meno il stato attuale, che cosa state facendo a livello nazionale anche insieme alle altre situazioni di consumatori? Perfetto. Perché questo è un po', purtroppo è brutto dirlo, ma è veramente un'emergenza, nell'emergenza. A livello nazionale ci sono 20 associazioni dei consumatori riconosciute dentro a sto CNCU, che sarebbe il Comitato Nazionale Consumatori Autenti che è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il sottosegretario è il presidente di questo ente, diciamo, dove ci si riunisce tutti insieme per poter fare il punto della situazione. Chiaramente devo confessare che non tutte le associazioni hanno strumenti, sono quelle più piccole, però le politiche che si fanno, si fanno andando, presentandosi come controparti, non come controparti, prima come uditori, per esempio noi andiamo nelle commissioni parlamentari di prezzi e tariffe, siamo stabili, c'è due nostri rappresentanti che vanno regolarmente nella commissione parlamentare prezzi. Quindi danno il loro contributo perché noi siamo sul campo, lavoriamo e capiamo le esigenze della gente. E quando legiferano, perché hanno messo l'iva al 5% sull'energia? Perché li abbiamo rotto le scatole per sei mesi nelle commissioni parlamentari, sui giornali, in televisione, eccetera, dicendo dovete intervenire non sulla spesa della materia prima, ma dovete intervenire sulle accise, su tutti quei soldi che vanno a finire nel calderone delle tasse dello Stato e noi ci troviamo ad avere prezzi di bollette di luce e di gas, dove noi il 38%, 35-38% è il costo di quello che mangio, il gas me lo bevo, l'energia elettrica, me faccio le scariche, ma il 62% sono tutte tasse accise e sono tutte spese incomprimibili. Guarda caso hanno fatto la legge già a dicembre scorso, e ha cominciato il grande governo a dire beh, allora abbassiamo l'iva al 5%. Esatto, e a questo proposito, siccome dobbiamo andare in pubblicità, parliamo del decreto salvabollette che è appena uscito, proprio per capire poi se vi vede soddisfatti oppure no. È interessante, ma lo parliamo tra poco, pochi secondi di pubblicità.